4 round a 2 minuti in categoria meno 66 kg e vado a chiamare all'angolo rosso dal Pro Fight in Bologna Giuseppe Cosenza All'angolo blu dal Pro Fight in Imola Marian Pellettini All'angolo blu dal Pro Fight in Bologna All'angolo blu dal Pro Fight in Bologna 13 match, 8 vittorie e 5 sconfitte Per Marian Pellettini 15 match, 7 vittorie e 8 sconfitte 4 round da 2 minuti Tribunal 14 match, 8 vittorie e 9 vittorie e 4 sconfitte 2 round da 2 minuti in Bologna 4 round da 2 minuti in Bologna 4 round da 3 minuti in Bologna 5 round da 3 minuti in Bologna Grazie. 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 No. Fine il primo round. Grazie. Grazie. alza il cartello e anche l'entusiasmo fuori secondi veloci le braccia veloci 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 metto vai 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 subito parti no E vince per RSC, Marian Bellettini! Premiazioni, ancora le foto di rito.